Il 16 aprile 2019 ci troviamo a Treviso per Sistema Involucro, un convegno promosso da Avet Laminati, Brianza Plastica, Emil Group, Mimic e Vortice. Un incontro dedicato all'involucro edilizio sia nei suoi aspetti di design e quindi di estetica che tecnici e quindi focalizzati sul risparmio energetico e sul comfort interno. Un'occasione per parlare di progetto e progettazione con il supporto di 5 aziende che hanno deciso di fare rete e di proporre soluzioni tecniche e concrete ai progettisti. E' un sistema che sostanzialmente lavora in un'ottica di fornire isolamento, quindi sostanzialmente migliorare l'efficienza energetica di un edificio e al contempo investire anche sull'aspetto estetico per valorizzare l'edificio stesso. La funzione del nostro materiale, che è un grass porcellanato, in effetti è particolarmente adatta a valorizzare l'elemento estetico, visto che è un materiale molto eclettico, molto versatile, con grafiche, finiture, formati molto diversi tra loro, quindi con la possibilità di lasciare anche al progettista la libertà creativa e al contempo comunque anche una funzionalità tecnica perché è comunque uno scherbo avanzato ed è quindi l'elemento che protegge in qualche modo l'involucro stesso da quello che può essere l'agente atmosferico è stato.